Nooo! Maio, 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 maio. Interboots. Nooo! 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 Quanto è stata clamorosa. È stata tristissima. Vieni qua, vieni qua da me. Vieni qua da me. Io non gioco più ai ratti. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale per entrare nel team di Burloni e non perderti alcun video. E ricordati anche di attivare la campanellina. Dimmi nei commenti, se l'hai fatto. Burloni, bentornati nella sfida del... No, aspetta. Non è sabato. Oggi è venerdì, ragazzi. Oggi è venerdì. E vi porto questa sfida dei Lucky Block per il semplice fatto che questa sera c'è la parità Juventus contro l'Inter. Abbiamo deciso di portarvi i Lucky Block a tema. Sotto nei commenti diteci per che squadra ti fate, anche se non ti fate per l'Inter o la Juve, ti fate per il Catanzaro. Scrivetelo tranquillamente nei commenti o se non seguite il calcio ditemi che sport seguite. Oh, oggi facciamo le domande per bene. Dieci minuti a partire da adesso, Marco, io direi che possiamo già iniziare. Ovviamente i Lucky Block sono stati fatti dal buon Nova. Abbiamo preso di base gli Spiral per me e i Delta per Marco. E ovviamente ci sono dei drop nostri, eccetera, eccetera. Io sono in creativa. Ok, io ho già trovato qualcosa. Madame Archie's Lucky Bow. Che figata questo Lucky Bow. Ho trovato gli Oreo. Ho trovato gli Oreo. Chec. Ho trovato gli Oreo. Mi è piaciuta come cosa, Marco, trovare gli Oreo. Eh, cosa è successo? Cosa è successo? Allora, ti dico subito una cosa. Visto che l'ultima volta, fin da subito, avevamo già tutti i drop, avevamo già tutto. Nei commenti, voi, voi che ci state guardando, ci avete chiesto di mettere i drop un pochino più rari. E lo sono. Sono, quindi, sono un pochino, sono caduto da solo. Come è stato a cadere? Marmi! C'era, c'era il, lo zombie che mi è venuto contro. Oddio, ho trovato il mezzo. Ho trovato il magenta. Ma io voglio le cose dell'Inter. Sì, ok, fai questo. Marco, ho trovato la spada della Juve. Conte è bella, hai visto come li ho ritexturizzate bene le cose? Spada della Juve ho trovato. Ah! Voglio uscire da qua. Vieni qua. No, no, no. Ok, mi sono salvato, ragazzi. Guarda, guarda. Mamma mia. Mamma mia. Aspetta. Sali. Bravo. Ho trovato un piccone con se il touch. Ok, va bene, non ci interessa tanto. Io voglio andare qua, c'ho l'Inter. Ok, bravo, perfetto. Io sono bellissimo in questo momento. Ho la cespite in diamante e il capo della Juve. Ah, ok. Ho trovato la... What? La spada dell'Inter. Io ho disintegrato la mia isola. Ho trovato la cespite io. Ottimo. Mi sa che è andata al bar la cespite. No, c'è, c'è, c'è. C'è, eccola qua. Allora, ragazzi. Spada dell'Inter che ci toglie ben sei. Non toglie tantissimo in realtà. Però, oi, fa niente. Non ci interessa. Ok, io toglie l'arco della Juve anche. Ok. Io apro le cose un pochino più con calma. No, no. Fai difficolti zero, ti prego. Fammi sta cortesia. No. No. Fatta. Ti ho fatto questa cortesia. Non in tempo, credo. Vero? No, non in tempo. Esattamente non in tempo. Ho fatto una cosa bellissima. Allora, no. Devo fartela vedere. Aspetta, aspetta, aspetta. Arrivo. Allora, guarda cosa hai in mano. Guarda, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Eh, aspetta, c'è un attimino un problema di sorta. Uh, ho trovato l'Inter Lucky Blow. Ok. Lo vedi? Hai il pallone. Ho il pallone che disintegra tutto. Sì. Allora, mi stava cadendo l'incudine dall'alto. Ho pensato, ma se lo colpisco col pallone, cosa succede? Pum! E mi sono salvato. No! E io ho un problema, però. Le cose dell'Inter non le sto trovando. Pur provandole. Io l'ho provata in Survivor, no? E ho trovato tutto praticamente subito. Non dico il primo. Funziona sempre così. Lo sai che funziona sempre così? Non è che... Ma non sto trovando niente. Ti ricordi l'altra volta cosa mi hai combinato con le palle, con il lanciatore di palle? Ti ricordi? No, no, living frame. No, 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 no. Sto prendendo danno. No, 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 Marco. Sto prendendo danno. Non mi far morire, ti prego. Gioco, gioco. So che mi vuoi bene, gioco. Beato lui che ti vuole bene. No! Vai a morire molto! Diciamo che i lucky block dell'Inter sono un po' più ansiolitici di quelli della Juve. Perché li vedo un po' più... Vuoi fare il cambio? Vuoi che io apro quelli dell'Inter e tu apri quelli della Juve? No, io non toccherò mai niente dalla Juventus. Oh, attenzione. Vado ad amarmi. Mi date le cose dell'Inter, favore, non ne escono. Perché? Oh, la palla. Una palla ho trovato. Una palla. Sta per esplodere. Sta per esplodere. Oh, cinque palle dell'Inter. Ok. E io mi so perché non c'è un po' di lucky block normali. Ma è per i gambali, però. Sì, l'ho trovata. L'ho trovata subito, ragazzi. Lei. Proprio lei. La signora. La grandissima. Non è la Juventus. Se ripetiamo sempre la stessa battuta. L'ossidiana. Ho trovato il Gatorade. Ho trovato il Gatorade, Fra. Cioè, Marco, ho trovato il Gatorade. Eh, dove si trova il Gatorade? L'ho buttato. Aspetta. Voglio il Gatorade, aspetta. Perché il Gatorade, poi? Cioè, questa qua è nuova. Non me l'avevi mai detto che c'era il Gatorade. Eh, ho messo il Gatorade. Che se tu lo bevi, ti dà potenza, praticamente. E quindi... Ok, strength. Ok, va bene, va bene. Potenza, un sacco di cose ti dà. Questo cos'è? Ah, il Piccone! Eh, dove sono finito. Piccone con sharpness, knockback. No, era qualcosa dell'Inter! Mamma mia, ragazzi. Non la troverò mai le cose dell'Inter. In realtà, io non è che abbia trovato tante cose. Cioè, ho poca roba. Ho solo il Lanciatore, il Piccone, dell'Armatura ho la testa e la Chessplit. Il resto non ce l'ho. Eh, tutto c'hai. Io continuo a trovare gli al-Lucky, boh! No, io ti giuro, non sto capendo sta situazione, perché... Mi spiace. Quanti ne devo aprire? Lossidiana, mi date l'ossidiana. No, 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 no. Marco, mi dai una mano, per favore, aiuto! Aiuti! No! Oh, me... Ah, grazie. Cosa ho fatto? Stavo... Non riuscivo più a respirare. Eh, io cosa devo fare? Devo trovartene io. Vengo... Adesso vengo in missione. Dato che sono messo bene, adesso vengo in missione Inter. Vieni in missione Inter, bravo. Potrebbe dare anche una mano, intanto, all'Inter, intanto, gli da qualche giocatore, così. Allora, vengo in missione Inter, arrivo io... Mi ho trovati! Inter Boots! No! 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 No, l'ho vista in diretta. No, l'ho vista in diretta. Quanto è stata... È stata camorosa. È stata tristissima. Vieni qua, vieni qua da me. Vieni qua da me. No, no, vengo qua. Allora, qua c'è un Gatorade intanto, eh. Ok. Un po' di Gatorade li sto trovando. Il problema è trovare il resto. Dove sono finito? Aiuti! Qualcuno mi aiuti, per favore. No, posto, posto, per favore! Dai, non mi ricordi lì! Cosa ho fatto di male, verrà la vera! Questi Lucky Block saranno lo specchio della parità di oggi, probabilmente. Allora, c'è un... C'è... Sì, no, dai, non esagerare. Se è così, siamo... Vado al bar io. No, basta! No! Basta! No! Basta! Cosa devo fare? Speriamo che questi Lucky Block ci danno qualcosa di bene. Intanto, ragazzi, ho ripulito un po' perché stava laggando tutto. Oh, ho trovato già subito l'Inter Lucky Bow. Ok. A muzzo. Ho trovato già qualcosa di buono. Io Bow... Io Bow davvero, non ho parole. Sì, perché mi continui a sponare questi gabbio di ossidiana con l'acqua. Ma adesso tu puoi venire da me e vedere quanti pozzi mi sono sponati vicini? Oh! Cos'è? No, di nuovo la spada no, però! Che poi là... Dove sono nato? Che sbata... Aspetta, Inter Lucky Boots! Oh mio Dio, ragazzi! Oh la... Oh mio Dio! Ne ho trovato un... No! No, basta, pozzi! Guarda quanti ce ne... Cosa devo fare io? È come da me e le gabbio di ossidiana, tu hai i pozzi. Non ci puoi fare nulla. È così. No, tu con la TNT no, ti prego. Ti prego, ti prego, no. Ti prego, ti prego, TNT. Bravo, esplodi. Ma tu te ne vuoi fare dalle palle, per favore? Mini Bob? Ok, grazie. Ho trovato di nuovo gli Inter Lucky Boots con tutte le cose che posso trovare! Ma puoi? Mi dispiace. Mi dispiace. Eh, mo cado! Io ho trovato un po' l'Ossidiana. No, sei morto anch'io! Mamma mia, ragazzi! No, 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 no! No, no, TNT no, basta! Basta, basta, TNT! Ok, è spawnato, ok, vai. Inter Lucky Boots di nuovo. Allora, niente, non ci spawnano... Abbiamo deciso che non ci deve spawnare la roba dell'Inter bella. C'è qualcosa di... Inter Lucky Leggings! Inter Lucky Leggings! Avevo della roccia di fondo, intanto. Inter Lucky Leggings, ragazzi! Ce la stiamo facendo, con calma! Mancano pochi minuti, intanto, ragazzi. Mancano tipo quattro minuti. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Inter Lucky Boots, sempre. Eh, vabbò, eh! Eh, vabbò! Eh, che cos'è? Oh. Ok. No, no! Basta! 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 Io non gioco più ai Lucky Block. Uh, ma che bello! Tutto libero qua! Oh! Eh, 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 certo! Eh, certo! È che deve uscire, secondo te! Eh, scusami, eh! Altre palle! Va bene, le palle a noi ci piacciono! No, beh, detto così no! No, però, guardami, guardami, per favore, guardami! Vai! Inter Lucky Leggings! Eh, vabbè! Eh, vabbè! È Inter Lucky... Un altro pozzo! Vai! Cosa ti manca, tecnicamente, dell'Inter? Tutto mi manca! Tutto! La palle, tutto! Non è sponato niente! Capisci? Non è sponato niente dell'Inter! Allora, vediamo se è sponato qualcosa qua giù! Vediamo, controlliamo per bene! Niente! E... Inter Lucky Chestplate! Oddio, è l'ultimo! È successo! Oddio, è successo! Manca solo... Ragazzi, abbiamo due minuti per trovare l'elmetto! Oh mio Dio! L'elmetto invisibile! È caduto la cosa dell'Inter! Inter P-X! Oh mio Dio! Ragazzi, è tutto vero! Stanno arrivando! È tutto vero! Stanno arrivando tutti adesso! Ci serve solo l'elmetto, ragazzi! Aspetta! Ah no, aspetta, questo non c'entra niente! Ma tutto così insieme mi sembra esagerato! Ti prego! No, ecco, adesso vado al bar! Ciao! No, Lucky Leggings! Ci siamo! Andiamo con l'Inter P-X! Che magari può... Ho trovato qualcosa! Oh! Ok! Vediamo! È lui? No, la TNT no però, zio! Non è vero! È esploso tutto! È il tuo incubo, ragazzi! Perché le meme su Instagram le riposto! La TNT versus Smarts! Non lo so! Non so più cosa dire, ragazzi! Sono... Sono basito! Ragazzi, è finito il tempo purtroppo! Non abbiamo trovato le cose che vogliamo trovare! Ci manca l'elmetto! E lo spara a palloni! Però dai, di palloni noi ne abbiamo un bel po'! Quindi va bene così! Adesso, ragazzi... Allora, ragazzi, devo fare una cosa! Prima che Marco si decide di arrivare! Devo fare le cose fatte per bene! Guarda perché sono già lì! Perché sono con la spada che mi dà speed! La spada che mi dà speed! Ok! Arrivo! No, l'Ossidiana non ce l'ho io però, eh! Marci no! Marmi! Eh, zio, mi dispiace! Vabbè, sì, sì, butta tranquillamente tutto quello che vuoi buttare! No, perché sennò ti tiro giù tutta quanta l'isola! Esatto! E io sono pure caduto da solo! Sono caduto da solo! No, 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 le ragnatele no! Le ragnatele no! Le ragnatele no, Marco! No, le ragnatele no, Marco! Dove sei? Lontano! Lì ci sono dei leggins, intanto, dell'Inter! Ah, ragazzi, noi ce la possiamo tranquillamente giocare! Però non abbiamo i blocchi per salire, perché Marco qua ha tolto la strada! Ha fatto apposta lui, ovviamente! No! Cos'hai combinato? Niente! Ok, saliamo di qua con calma! Ok! Marmi! Come sta andando? Scusami un attimo! Ma il bottone l'ho tolto, scusatemi! Ma raga, ho buttato giù il bottone! Cioè, ma io ho buttato veramente giù il bottone! Ma ti rendi conto? Tranquillo, Marci! Ce n'è uno sopra l'altro cesto! No, no, ma tranquillo! Ho trovato qualcosa di meglio! Ah, sì? Ah, sì? Papà, papà, papà! No! Prima io! Prima io è stato, però, eh! Eh, cosa cambia? Non cambia niente! No! Oddio! Cosa stavo combinando, Fra? Pensavo che la pistola si caricasse e invece stavo per cadere giù nel vuoto! No! Sì! Sì! Ho vinto io! Ho vinto io! Ho vinto io! Inaspetto! Unexpected! Unexpected! Oddio! Ci sta! Oh, mamma mia, ragazzi! Non ci faccio più! È stato veramente difficile! È stato veramente difficile, però! Vi devo far vedere, ragazzi, che nella sessione della creative c'era anche, effettivamente, nel metto!